Ospiti dello stand di Bellon Mid, abbiamo visto questa novità, presentata proprio in questi giorni. Si tratta di un germicida a raggio UV, collegabile sia alla presa elettrica ma utilizzabile anche in modo indipendente, grazie al generatore di corrente onda di cui è dotato. Funziona a spinta e lavora a passo d'uomo. Le lampade UV sono due e si possono staccare. Come ci teneva a sottolineare il produttore, il lavoro svolto dalla lampada non è visibile e serve solo a sanificare la superficie su cui si passa, per esempio spogliatoi, piscine e quant'altro. Se per terra vi è dallo sporco visibile, come del fango, questo non verrà eliminato dal passaggio di questa macchina. Il produttore ci ha riferito che sono in corso le sperimentazioni e i test anche insieme ad un importante ateneo per mettere a punto il germicida e poterlo presentare in listino quanto prima.